Buongiorno a tutti, allora ho preso la frutta, vi faccio vedere come sempre banane, lampone, eccole lì, cichita, 24 banane cichita, così sono a posto per un paio di settimane poi cosa abbiamo preso? Il gigione, cosa ha preso? Aspettate che le mettiamo alla luce, clementine, 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 guardatele qua, infine il salasso, perché questi veramente sono dei pomodorini salassanti, non perché ti tolgono il sangue, ma perché ti tolgono i soldi, 7 euro al chilo, anzi 6,90, però ne ho presi 900 grammi, quindi vabbè, però sono belli, pomodorini piccolini eccetera eccetera, no due chili sono le clementine, sono un prezzo umano, ma i pomodorini, veramente quando ho visto il prezzo stavo per svenire, vabbè, tanto mi durano due settimane, quindi non muoio mica, quindi video veloce veloce come vedete, niente di che ci metterà un nanosecondo a caricarsi, detto questo ragazzoli ci vediamo alla prossima, prossimo video interessante, adesso lo faccio subito, ciao